Nei DSA serve il sostegno? No, nei disturbi specifici dell'apprendimento non è necessario il sostegno. Ma perché no? Beh, io sono il dottore Gianluca Lopresti, psicologo professionista, autore ed esperto nei disturbi specifici dell'apprendimento. Se volete, seguiteci. Beh, i DSA non sono regolamentati dalla legge quadro 104 del 92, ma dalla legge quadro 170 del 2010. La legge 104, prevista per diagnosi diverse dai DSA, prevede vari aiuti, tra cui il docente di sostegno. Cogliamo adesso l'occasione per ringraziare tutti i docenti di sostegno in Italia che svolgono con immenso amore incredibile il loro lavoro per tutti i nostri alunni speciali. Ma torniamo adesso al nostro argomento, che potremmo sintetizzare in tre punti. Uno, nei DSA legalmente non è previsto il sostegno. Due, nei DSA abbiamo un'intelligenza nella norma. Dunque, grazie agli strumenti compensativi corretti indicati dal clinico che fa la diagnosi e grazie ai PDP applicati dai docenti, vista appunto l'intelligenza nella norma, un bambino con disturbo specifico dell'apprendimento può svolgere il suo regolare programma senza insegnante di sostegno e senza l'utilizzo degli obiettivi minimi. Questi appunto non sono neppure previsti nell'ambito dei DSA. Tre, c'è però un se, un se enorme. Se un soggetto ha anche una diagnosi in più al DSA, come ad esempio disturbo primario del linguaggio, ADHD, disturbo della coordinazione motoria, eccetera, allora può eventualmente avere diritto all'insegnante di sostegno. Ma ciò perché vi è anche la presenza di queste altre diagnosi? Ma se è solo DSA il sostegno non è previsto. Bene, sperando che queste informazioni siano utili, vi invito a condividere questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!